La provincia di Lecce è la più orientale d'Italia e occupa l'estremità meridionale della Puglia. Essa, insieme a parte delle province di Brindisi e di Taranto, compone oggi la regione geografica del Salento, un tempo chiamata Terra d'Otranto. Le spiagge della provincia, oggi meta di turisti italiani e stranieri, sono caratterizzate da sabbia dorata finissima, mentre ripide scogliere dalle alte falesi a picco sul mare permettono di ammirare scorci di paesaggi mozzafiato e di godere dei profumi della macchia mediterranea. I muretti a secco, le pagliare e le masserie colorano il paesaggio delle campagne ed esaltano la specificità del territorio dove la pietra è da sempre considerata l'elemento costruttivo primario. Grazie per la visione! Grazie per la visione!